Siracusa Seek to Seek, una pedalata per conoscere e tutelare la biodiversità. Una lunga pedalata per conoscere la bellezza e la ricchezza di biodiversità del nostro ambiente costiero. Prenderà il via sabato alle 9.30 dello spiazzo del Bar Cubano, una tappa siracusana Seek to Seek, una passeggiata in bicicletta che partendo da Fontane Bianche e toccando i principali siti lungo la costa con sostene punti più significativi sotto l'aspetto ambientale, giungerà fino a Siracusa. L'arrivo è previsto in piazza Duomo e da lì la carovana proseguirà lungo le corsie ciclabili in corso di realizzazione a un tragetto complessivo di 32 km. Per partecipare occorre accreditarsi attraverso la pagina Facebook Live Seek to Seek. La manifestazione è stata presentata stamattina in conferenza stampa dal sindaco Francesco Italia dall'assessore alla mobilità Maura Fontana e dall'assessore Andrea Buccheri che ha seguito l'iniziativa inizialmente prevista per maggio ma poi rinviata a causa della pandemia da quando era titolare dell'ambiente. Con loro il direttore della riserva Ciane Saline Giuseppe Mambino, Sabrina Zappalà per l'area marina protetta e Matteo Lener che lavora al progetto per conto dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'ISPRA. Seek to Seek infatti è finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Life per la difesa della biodiversità e per la sostenibilità e si conclude proprio in Sicilia dopo tre anni e cento tappe in sette regioni italiane. Un evento, ha detto il sindaco Italia, che abbiamo voluto con convinzione perché la nostra amministrazione crede che l'ambiente sia una grande risorsa da tutelare e crede in un'idea di sostenibilità a 360 gradi che passa anche attraverso l'utilizzo dei mezzi ecologici per muoversi in città. Questi obiettivi puntiamo attraverso il coinvolgimento delle associazioni impegnate sul fronte ambientale. Dunque ringrazio i protagonisti di questa iniziativa che è allo stesso tempo di divulgazione culturale e di promozione del territorio. L'assessore Fontana, la scelta della sostenibilità compiuta dall'amministrazione è dimostrata da atti concreti. Mi riferisco a aggiunto agli investimenti programmati attraverso l'agenda urbana e il collegato ambientale con altre due piste ciclabili, l'acquisto di mezzi ecologici per il trasporto pubblico locale, il parcheggio scambiatore e tutte le iniziative volte a scoraggiare l'uso delle auto come le nuove corsie ciclabili cittadine. È una scelta strategica che abbiamo compiuto e sulla quale stiamo raccogliendo autorevoli consensi dagli esperti della mobilità sostenibile. Nell'idea iniziale quella di Siracusa doveva essere solo una tappa di passaggio. La scelta di trasformarla in una delle quattro tappe pubbliche siciliane è detto l'assessore Buccheri e maturata dopo che l'ISPRA ha avuto consapevolezza del nostro patrimonio ambientale e della vasta presenza di biodiversità ma anche della tutela di cui necessita a causa dell'azione dell'uomo. Sabato attireremo l'attenzione su questo aspetto e lo faremo soprattutto con i focus previsti lungo i punti più suggestivi dell'area marina protetta della riserva Cianesaline. SIC2SIC ha spiegato Lerner, è essenzialmente un progetto di comunicazione per far conoscere la rete delle aree protette che tutelano la biodiversità soprattutto in quei territori che in passato sono stati danneggiati dall'azione umana. In questo senso ci si rivolge a diversi soggetti del settore, alle scuole attraverso la fornitura di un format specifico e alle amministrazioni pubbliche affavorendo lo scambio di buone pratiche. Il percorso prevede partenza da Fontana in Bianca, Bar Cubano, poi Pane e Biscotti, Torre Ognina, Porticciole, Borgo di Ognina, Sparano, Arenella, Fanusa, Terrauzza, Plemirio, Capo, Muro di Porco, Punto della Mola, Pillerina, Isola, Riserva Cianesaline, arriva a Piazza Domone le 12.30. Seguirà una passeggiata con le nuove corsie ciclabili. Il gruppo sarà accompagnato da una staffetta della Polizia Municipale in motocicletta.